Sì, io ho messo a prenderà anche tutti, e sinora forse riusciamo a contrarre la serratura. Sì, abbiamo fatto una prima analisi dei costi, però preferiamo non farlo naturalmente perché voleva arrivare alla legnaia, perché i costi saranno veramente alti, perché per girare proprio questa parazzina funzionale, accogliente, con tutti i servizi, con la sua sala preliente, e si apre il sangue, si apre il plasma, fino a terra, gli uffici delle associazioni, la sala a convegni, il parcheggio, l'impegno, posso dire quanto? L'Inea di Massima, siamo tutti seduti, noi ce lo ripetiamo da seduti, dopo aver preso un'antiperpensiva, un'anti... sul milione e mezzo di euro, tenendoci tranquilli, senza far rifiniture, niente vanigliatore, niente... Ma pensate di trovare alcune situazioni che magari la fanno già? Noi ce lo auguriamo, perché se lo si trova nei finanziamenti, ma il fatto che noi siamo qua adesso, e comunque c'è anche il dottor Paolo Strana che è convinto come noi, di questo progetto, però il fatto stesso che siamo qua a presentare questo progetto, in cui crediamo veramente in tutti, è perché ci auguriamo e siamo al 99,9% convinti di riuscire a trovarli. Tengo a raggiungere la prima modetta, diciamo sempre, che vogliamo fare, è il ma, ce la faremo. Sì, se non sono soldi, abbiamo decorato diverse possibilità, in maniera abbastanza, diciamo, di riuscire a vivere, in aiuto di più sicura parte del Comune, di autorevolezza, di poter toccare. Ci sono...